Signore e signori, a che tempo che fa Francesco Guccini! Buonasera. Perché sorrigli? La locomotiva... C'è uno scherzo, non mettermi la locomotiva, e ogni volta dico no, e metto la locomotiva. Ma perché ce l'hai con questa meravigliosa canzone? Non ce l'hai con la locomotiva. Ce l'hai con me? No. No? A parte il fatto che uscirà con questo disco, la versione di Lusso per Natale, che sarà dentro la locomotiva cantata in catalano. Ah, vedi? Vedi? Quindi c'è la locomotiva cantata in catalano. Bene, va bene. Ecco, infatti hai fatto tre versioni del disco, un CD normale, poi c'è questo un po' più grande. Hanno fatto. Hanno fatto, sì. Non ho fatto niente. E l'LP che ho fatto vedere prima. Hanno fatto perché tu volevi fare la versione digitale. Volevo fare? No, dico, tu hai detto hanno fatto, hai preso le distanze, come dire, perché tu volevi fare la versione digitale. In che senso? No, non lo so. Cosa vuol dire hanno fatto? Hai detto hanno fatto. No, non lo so. Non lo so, non lo so. Perché tu come lo volevi fare? Io non volevo fare niente, io lo so cantare. Tu dovevi solo cantare e basta. Io lo metto. Perché tu non... Dunque adesso, come si chiede, il digitale, quell'altro sistema qual è? Allora, c'è... Il digitale? Eh? E... Quello, quello... I primi dischi che ho fatto con che sistema? Quello fisico, i dischi, il vinile, quei dischi. No. I cd? Lo so. No, cosa aiuto? C'è il sistema di registrazione per... Non vi ho la parola. Non lo so, non so cos'è. Su un astro, su... Bravo, una volta parliamo... Analogico. Ah, analogico. Analogico. Sì. Digitale e analogico. Adesso sì. Regista per digitale. Registi per digitale. Tu non hai... Nella vita... Ti dico una cosa... Non ti offendere. Tu, nella vita privata, non shazammi? Cioè, quando ascolti una canzone che non sai cos'è, usi shazam o no? O chiedi a qualcuno? Più che altro. Più che altro, più che altro. Basta. Abbandoniamo. Abbandoniamo. Dopodiché, secondo me, se va in classifica su Spotify, lui è contentissimo. Ma non mi dispiace, veramente. Eh, eh. Ti hanno detto di Spotify, sì. Di che cosa? Spotify, la classifica Spotify degli ascolti online, quelli più... FortiFive? Spotify, non FortiFive, Spotify. Va bene. Cambiamo discorso. Andiamo in osteria. Allora, queste canzoni che tu hai radunato in questo disco nascono dalle tue frequentazioni e serate in osteria. Sì. Sono sempre stato un cacciatore di canzoni. Ho in testa, più o meno, un repertorio di canzoni enorme. E, difatti, quando mi è stato... Quando ho pensato di farmi fare questo disco di cover, perché uno dice, anche qua, l'ho detto, non canto più, non è vero, non canto più. Non canto più canzoni mie. L'ultimo disco l'ho fatto, credo, nel 2011. Si chiamava L'Ultima Tool. Come no? Eh, abbiamo visto prima. L'hiamo presentato qua. Sì, bravo. E lì ho detto, basta, finitere. Mi hanno dato questo disco di cover. Ero un po' meditoso. Ho sparato una serie di titoli impossibili. E loro ho detto, va bene, facciamo questo. Cioè, tu hai detto dei titoli impossibili alla casa discografica, sperando che non te la facessero fare. Bravo. Esatto. E invece ti hanno detto di sì. Hanno fatto bene, così impari. No, 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 no. Grazie a tutti.